Benvenuti su Gossip Italia 24. Prima di raccontarvi cos'è successo, sosteneteci lasciando mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è molto importante, grazie. Antonio Pipitone, ex marito di Piera Maggio e padre non biologico di Denise Pipitone, sostiene di aver scoperto nuovi elementi mai analizzati prima riguardo la scomparsa della bambina. Avvenuta a Mazzara del Vallo il 1 settembre 2004. Il 29 maggio, con l'assistenza del suo avvocato Luisa Calamia, Pipitone ha presentato un'istanza al tribunale di Marsala per riaprire le indagini. Questa richiesta è il risultato di un intenso lavoro di squadra di specialisti, che hanno individuato prove trascurate dagli investigatori fino ad ora. Oggi, Piera Maggio vive con Piero Pulizzi, padre biologico di Denise Pipitone. Nonostante la separazione, Antonio Pipitone continua a cercare la verità sulla figlia scomparsa, avvenuta mentre giocava con un cuginetto a pochi metri dalla casa della nonna. In un'intervista con Fanpage, la criminologa Antonella Delfino Pesce ha dichiarato. Siamo molto fiduciosi per una futura riapertura del caso, poiché il team ha lavorato su elementi nuovi. Tuttavia, la criminologa ha avvertito che l'esito dell'istanza potrebbe richiedere dai 3 ai 6 mesi, basandosi sulla sua esperienza.